Allora Mila che ne pensare sti neore? Ma in chi sesso? Prima io non vi do giocare. Non stai parlando da un euro, non stai parlando da un giocatore. Tu spavavo stasomma, hai visto che essere buono? Bravo. Tu spavavo stasomma. Esatto. Io ci disse no da un giocatore, ci disse da un euro, dei neore che ne pensare? Ah dei neore? Eh. Mi hanno mai chiesto perché sono fatto? Eh. Ma direi che tutti sono i neore, i gatti, fa qualche miniglia. Non stai parlando, non stai parlando, i neore, i gatti, 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 i gatti. Se lo puoi dire. Chi è cacciato? Non sbagliare? Ok. Ch Shockerico. C'è l'unico? E c'è l'unico? E c'è l'unico. Ma è che c'è l'unico? E c'è l'unico? E non è tanto battaglia con un bambino. A questo punto sta scherzo, non è菜' che c'erano a dizza. a fare, ci passavano l'uno o l'altro. Esatto. E non solo che ci facciamo la vendita, ci facciamo. Alla fine, forse fosse meglio raccogliere, perché ci fanno collegare. Perché si andano a mangiare. Non vedrò che succede, quando andano a mangiare. E fino a quando, al giorno, ci permettono di farle entrare. E' il giorno. Non lo hanno fatto, questi ragazzi. Ora, signor Bianco, signor Bianco, come si chiama, perché io ci sto dicendo, faccio sempre parlare al Consiglio Comunale. Perché dopo sono tutti stanno andando a andare a andare a visitare quest'anno o tre anno. Perché spesso ci ho messo, ci ho rondevo l'oro nel banale quello qua. E non vanno a mangiare il cuore.